Gli italiani sempre più indebitati è la fotografia scattata da Eurisk, il database gestito dal CRIF che raccoglie oltre 78 milioni di posizioni creditizie. Il 34% della popolazione maggiorenne ha almeno un contratto di credito rateale attivo tra mutui, prestiti finalizzati e prestiti personali. In media per auto, case e vacanze l'italiano sborsa circa 360 euro. Ancora una volta lo studio mette in luce la distanza tra nord e mezzogiorno. Apparentemente infatti le regioni del sud risultano meno indebitate. La nostra Sicilia ad esempio si classifica solo al diciottesimo posto e tra le cinque province meno indebitate di tutta Italia due sono Sicule, Enne ed Agrigento. Certo in Sicilia e il sud in genere si deve considerare un dato non trascurabile che è quello dell'economia sommersa. Ma il quadro non sarebbe del tutto negativo. Secondo Antonio Patuelli, il presidente dell'ABI, la crescita dell'indebitamento non sarebbe necessariamente figlia della crisi economica e anzi potrebbe rappresentare una possibile ripresa. L'indicatore di una nascente speranza nel futuro è una maggiore predisposizione a spendere, fiduciosi di poter onorare gli impegni finanziari. Complice anche la ripresa economica che al sud sta interessando soprattutto gli ambiti del turismo e dell'agricoltura. Grazie mille. Grazie mille.